Massimo tre giorni e lui ci lavorava sopra e ci faceva la canzone, invece per farci un film doveva soffrire dieci anni e quindi c'era sempre questa chiave ironica che lo accompagnava e puntualmente in mente questa canzone O Sai Come Focora e lui giocava spesso sul suo cuore Massimo Troisi perché sapeva che il suo cuore probabilmente non avrebbe retto e aveva ragione, però in un altro contributo video che ci ha portato noi vediamo un Massimo non solo scrittore, un Massimo poeta ma un Massimo uomo, dobbiamo vedere? E' una poesia di Massimo, al mio cuore... E' una poesia di Massimo, al mio cuore... ma il mio cuore è malandato, non lo definiva lui I am a bella di un'altra città I am a bella comparazione e i miei amici e i miei amici e il mio cuore è passato Il mio cuore è appuntato No, no, va bene, lo faccio. Sì, sì, no, non faremo. No, no, io devo dicendere le mie cose, le cose in cui credo. Sì, la famiglia. Sì, la famiglia. A me mi piacerebbe proprio aggregarmi ad altri due o tre per amarne una sola. Sì, però io vorrei essere il secondo. Sì, ecco. Io vorrei essere il secondo perché il primo è troppo faticoso. Cioè, pure il sospettile, è difficile, è una cosa... Invece poi l'ultimo sta troppo indietro nella considerazione. Invece il secondo o il terzo sarebbe proprio il posto giusto oberto. Sì, ecco. Sì, ecco.